10, forse 11 autobus domani partiranno da Chieti per raggiungere l'Aquila nel giorno del pronunciamento del comitato via sul progetto Megalod 2. L'iniziativa è stata promossa da Confcommercio che alle 10 esatte, insieme a tutti gli operatori del settore, si sono dati appuntamento proprio dove si decideranno le sorti dell'intero comparto, annunciando sin da ora l'intenzione di non fermare la loro marcia contro il progetto. Ci mettiamo la faccia, riempiamo i pullman e andiamo all'Aquila dove alle 10 è stato convocato un comitato via che pare si dovrà esprimere su questo nuovo insediamento del Megalod 2. Nella seduta del 16 marzo il comitato via ha già chiesto di potenziare gli argini. Sicuramente sono state utili le osservazioni delle associazioni ambientaliste. Noi riteniamo di non aver competenza su questi argomenti che sono molto specifici, ma sicuramente domani andremo a protestare e sarà la protesta, un grido di dolore, di tutta la categoria delle piccole e medie imprese che poi sono la spina dorsale del nostro Paese. Abbiamo già chiesto da tempo che ci fosse, che si ritornasse a un riequilibrio tra la grande distribuzione e il piccolo commercio. Se le forze politiche e comunque questo comitato via non capirà le nostre motivazioni, noi non demorderemo e quindi siamo disposti e già organizzati a delle azioni anche un po' più significative.